Si inizia con i Paesi Bassi, si chiude domenica con l'Italia e altri 20 stati membri dell'Unione a dare il via libera alle elezioni europee. Sono da questa mattina gli olandesi che hanno inaugurato una tornata elettorale che in quattro giorni porterà al voto oltre 370 milioni di elettori. Gli olandesi dunque sono i primi a votare, gli unici a farlo nella giornata di oggi. Domani apriranno i seggi in Irlanda e Repubblica Ceca. Sabato 8 toccherà agli elettori di Italia, Lettonia, Slovacchia e Repubblica Ceca. In Malta, Italia e Repubblica Ceca saranno le uniche due nazioni a far votare i cittadini su due giornate diverse. Il vero Election Day ci sarà domenica quando gli altri 20 stati andranno al voto. Lo spoglio invece sarà contemporaneo in tutti e 27 gli stati, mentre i primi exit poll nei paesi dove le urne sono già chiuse e non è il caso dell'Italia ci saranno già alle 18 e 15 di domenica. È un invito agli elettori di tutti e 27 paesi dell'Unione ad andare al voto e di farlo in modo responsabile arriva da Monsignor Mariano Crociata, presidente della Comece, l'organismo che raccoglie i vescovi rappresentanti delle conferenze episcopali dei paesi dell'Unione. Per quanto riguarda l'Italia, la campagna elettorale si concluderà domani sera. Le urne si apriranno alle 15 di sabato fino alle 23 e domenica dalle 7 alle 23.